Sono veramente proprio felice di avere in studio con me Irene Troia. Irene buongiorno e benvenuta. Con Irene parleremo di SPES perché SPES è un centro di servizio per il volontariato del Lazio. Dunque noi faremo con Irene e tutti gli adepti di SPES di questa attività un appuntamento settimanale perché vorremmo e faremo informazione su tutto quello che naturalmente c'è da dire sul volontariato che è un mondo enorme ma è sommerso, del quale si ha poca conoscenza e del quale pochissimi parlano. Noi lo riteniamo invece importantissimo ed ecco perché inizieremo con voi questo appuntamento di collaborazione. Però oggi dobbiamo soltanto raccontare che cos'è SPES, Irene. Bene, allora sì, senz'altro sono d'accordo con un mondo molto ampio e anche sommerso. Consideriamo, solo per dare qualche dato, che le associazioni e le organizzazioni di volontariato nel Lazio sono circa 1780, quindi un numero molto ampio e si occupano chiaramente di svariate tipologie di attività. Allora, SPES sostanzialmente è un appunto, come detto prima, un centro di servizio per il volontariato. I centri di servizio sono nati grazie a una legge nazionale, la legge 4 sul volontariato, la legge 266 del 91, che all'interno di questa legge c'è un articolo, l'articolo 15, che istituisce appunto i centri di servizio in quanto richiede che venga destinato un quindicesimo dei fondi, delle fondazioni bancarie per attività di solidarietà e di volontariato. Quindi i centri di servizio hanno cominciato in realtà ad essere attivi grazie a un decreto del 97, quindi comunque l'attività è iniziata un po' dopo. Però grazie a questa legge nazionale noi esistiamo sostanzialmente. SPES, nello specifico, esiste dal 98, ha una vita, insomma, ormai una tredicenne. E come tipologia di attività, chiaramente, e come mission del centro di servizio, c'è il supporto alle attività delle associazioni di volontariato. Chiariamo subito, e è importante e fondamentale sapere che questi fondi che abbiamo a disposizione ci permettono di svolgere questi servizi gratuitamente per le associazioni. Certo. Quindi questo è fondamentale anche per far capire che sono attività che noi svolgiamo per supportare associazioni che sono tante, ma spesso sono molto piccole. Senti Irene, per far capire a chi ci sta ascoltando, dunque queste attività avvertono a, per esempio, a supportare chi e con quali modalità? Allora, supportiamo, diciamo, come ovviamente mission dei centri di servizio, le associazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale del volontariato del Lazio, che è un registro che sostanzialmente, iscrivendosi al quale, si assume, l'associazione assume un elemento di volontarietà ancora più forte e più spiccato e ha una serie di vantaggi, tra cui quello di, insomma, lavorare anche con noi, avere la possibilità di usufruire i nostri servizi, che sono ampi, variegati, quindi cerchiamo comunque di aiutare le associazioni anche dalla loro nascita. Certo, sì. Quindi li aiutiamo grazie al servizio consulenza e assistenza a scrivere l'atto costitutivo, lo statuto e lì poi li supportiamo, li seguiamo in tutto il loro percorso di vita, quindi anche la possibilità di mantenere un po' il loro bilancio contabile e tutto il resto. E poi chiaramente sono tanti i servizi che noi offriamo, partendo chiaramente dalle indicazioni che abbiamo avuto dal decreto del 97, a cui facevo riferimento prima, ma che sono poi la natura fondante e le esigenze più grandi delle associazioni. Quindi ci occupiamo di formazione, quindi facciamo attività, corsi di formazione per le associazioni di volontariato, i più svariati, contabilità, comunicazione, progettazione, eccetera. Quindi abbiamo questo tipo di panorama. Diciamo che questo è l'aspetto poi economico-burocratico, ma la finalità, ecco, a chi ci rivolgiamo? A quelle classi sociali dimenticate, ai non abbienti, a chi ha bisogno per esempio di un giaciglio per passare una notte, a chi ha bisogno di un pasto per sostenersi durante una giornata, no? Insomma, questo è in buona sostanza. Sì, le organizzazioni di volontariato di questo si occupano e noi sostanzialmente cerchiamo di aiutarli a lavorare meglio proprio su questo. Quindi le agevoliamo con i nostri servizi a diffondere, anche a diffondere chiaramente con l'attività di comunicazione, le loro iniziative, manifestazioni e tutto il resto. Però è un supporto che noi diamo alle associazioni che si occupano di questo. Certamente. Allora, in questo nostro primo e breve preambolo io lancio a voi, amici in ascolto, la possibilità a questo punto di contattarci laddove vi siano delle realtà di intervento che, per esempio, a noi possono sfuggire o possono sfuggire addirittura alla SPES. Perché? Perché questo è un servizio che noi faremo a partire dalla prossima settimana, entrando proprio nella specificità degli interventi e di tutto, come soccorso, come supporto, come un quel piccolo qualcosa in più atto ad aiutare tutte le attività di volontariato semplicemente perché lo riteniamo un dovere. Lo riteniamo un dovere civile in primis e poi sociale in seconda istanza. Quindi, ecco che dalla prossima settimana, nella giornata del giovedì, noi avremo una finestra sul volontariato. Allora voi siete anche corredati della nostra mail, che poi vi ripeteremo, mediante la quale potete inviarci tutto ciò che voi ritenete debba essere necessario come intervento. Noi saremo soltanto un tramite come Radio Yes fra coloro che abbisognano e la SPES che può dare e può intervenire. Semplicemente questo. Senz'altro le organizzazioni di volontariato poi saranno il nostro ulteriore contatto. Ovviamente. Ci auguriamo anche di aver modo di farvi conoscere, proprio leggendo queste esigenze, la vita delle organizzazioni. Ovviamente. Intanto Irene ti ringrazio. Perdonami la brevità di questa nostra prima conversazione, ma come hai ben visto è una giornata molto dolce per noi è molto importante. Va bene. Ti ringrazio tanto e a sentirci a partire dalla prossima settimana. Allora grazie a Irene Truia di SPES, centro di servizio per il volontariato del Lazio.